eccoci siamo noi qui della casa dello snignos in bolivia per farci conoscere per far conoscere a voi i nostri volti ma soprattutto per ringraziarvi per la vostra amicizia perché voi volete condividere questo abbraccio che dà ali e speranza ai nostri sogni e ci permette sentirci avvolti dal bene e dall'amore sempre grazie grazie di cuore